e salve a tutti ragazzi benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video della vostra queen su fortnite raga mi raccomando da subito un bel position in su e iscrivetevi al canale dai allora ragazzi come avete visto sicuramente dalla miniatura finalmente a grande richiesta è tornata la webcam che va ad inquadrare il mio mouse e la mia tastiera questo perché mi avete chiesto in tanti di voi di appunto metterla per vedere insomma come muovo le mani come muovo il mouse e quindi l'ho messa proprio per questo motivo quindi siete contenti di questo ritorno della webcam per la tastiera e mouse mi raccomando scrivetemelo qui sotto nei commenti peraltro da circa una settimana mi è arrivato un nuovissimo mouse e ragazzi non avete idea di come mi ci sto trovando penso che questo qua anzi sicuramente posso dirvi che è il mouse migliore che ho avuto fino ad oggi è letteralmente il mix perfetto stiamo parlando di questo mouse ragazzi l'asus rogue caris ovviamente non è una sponsorizzazione ci tengo a precisarlo ma sapete quanto a me piace comunque comunicarvi ogni volta che magari faccio un cambiamento di periferiche o magari avvisarvi di come mi ci trovo eccetera 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 mi ci sto trovando veramente bene perché pesa tipo 78-79 grammi ed è ovviamente wireless che è sicuramente molto più comodo di un mouse con il filo e poi sono tornata anche alla mia vecchia tastiera che non è vecchia ovviamente ma che ho utilizzato per in circa l'anno scorso se non vado errato che sarebbe appunto lei la claymore che è bellissima e poi ragazzi ai switch blu non sapete di cosa sto parlando? piccola dimostrazione di ASMR ragazzi lasciate perdere è un orgasmo posso dirlo? ok perfetto ma io ragazzi vi ricordo che voi mi trovate in live streaming su twitch tutti i giorni dalle 4 di pomeriggio fino all'1-2 di notte quindi mi raccomando seguitemi in live trovate il link del mio canale qui sotto in descrizione stessa cosa per il link del mio profilo instagram che è diciamo l'unico social che posso utilizzare utilizzo per stare un pochino più a contatto con chi mi segue quindi rispondere ai direct condividere le vostre stories quindi seguitemi anche su instagram detto ciò ragazzi non perdiamoci in chiacchiere è tempo di guardare il video una buona visione ragazzi no quella a te va lui nella cassa e trova la R ma guarda veramente io 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 non ho parole si bravo comunque è una bella mira ti consiglio ad ammirare io 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 ha sparato 30 colpini e anche uno l'ha preso te lo giuro non è da patto era? non è da patto quindi? no era proprio botte diverse qua stanno qua c'è una scala visto no way buonito mi ha craccato grazie per il pompa blu grazie per la R blu oh c'è gente c'è gente c'è gente non so bene dove 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 23 mi ha fatto 99 a quello la alla tizia ok alla donna poi c'è qua io forse la lasero in testa laserata one hit one hit one hit arrivo dalla tizia nocata forza da me finisco in knock così è la vita andato lì dentro questo porchita aspetta fuori ma basta ma guarda non sai giocare basta non ci credo che ci hai aspettato e mi ha lanciato un razzo aspettato che c'è gente aspetta rio ogni dopo che si è più bo 18 e lo distruttò è un fatto lui l'italianino dove sei mamma mia quello è nai che era nascosto e aspettate che fai i tassi con tra cannes che ora non so neanche dove è andato io appena ho fatto un fight contro un fantasma praticamente passava tutte le mie strutture dimmi che ci sta il tizio ti prego vuoi la buona o la cattiva notizia la buona e basta voglio la buona è che non c'è gente la cattiva è che non c'è neanche il latizio no l'ossi 800 di oro a non me no no l'ossi no no l'ossi io spacco tutto ma mi faccio pure le rpg ora non hai capito cioè dimmi che c'è no no magari che lo puoi fare veramente c'è 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 ok c'è un problema ai cure di vita ok perché la sette di strumento no 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 per noi c'è gente vicino guarda la taglia andare andele 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 e la taglia per forza con una macchina perché guarda quando sono arrivati avanti questi ci stanno aspettando palese invece spuglio invece spuglio stanno aspettando è posto vero questo pochino bianco bianco anche lato studi due caccati c'è uno qui a destra c'è il velluto del noccato sento passi da me io arriva l'altro da dietro da dietro one shot one shot noccato ma mi mazzo da un amico si si sono lì a pensionare non li sparo vado sul tetto sono andati dentro sono andati dentro sono usciti mi hai visto 41 l'ho fatto faccio solo le benzine lì 35 la madonna un attimo dei mini l'ho baccato l'ho baccato l'ho baccato l'ho baccato uno oh non mi aspettavo che era qua il compagno l'altro è so dove one shot belle p90 ma nessuna calcura extra c'è solo mini shield tutti quanti oh shield c'è gente c'è gente c'è lo prendi sta cosa o no oh è l'altro mi ha vissuto morto l'altro mia te lo conferma mi ha fatto male all'osso di fartelo tutto andiamo a fare un medikit se non riesco di morire c'è il medikit qua? ce l'ho ce l'ho ho anche uno shieldone in più se vuoi ti serve? no macchina che sale e gli sparano da dietro è quella a sinistra sinistra entriamo in safe ovviamente 35 blu 41 crackato ok uno di vita è deciso? no 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 ora si c'è una shieldone in più eh no ma se non ha medikit non ha senso aspetta aveva l'ultimo we don't care ci sono pesci qua sto correndo allora i team in teoria li ho docchiati tutti quanti tutti tutti quanti qua dietro questo è un team uno nel bush uno nel bush forse io tiro un RPG aspetta trezzo vai uh morto 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 vai andiamo alla fine chiudiamo sta partita allora ok sono nell'isoletto in una squadra e quando non dovrebbe essere completamente clean sì 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 ok clean sono distantissimi più vicino non è più distanza cioè diciamo dopo il 36 io non perderei però la posizione oh no se ok va bene va bene va bene occhio occhio curati con calma io sono qua a guardarti tiro un RPG da te è entrato? no ti finisca il knock ha preso? vuole salire in Nike? lo faccio cadere? cade 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 mi voglierà prendere il Nike da me che vuole fare questo? questa cosa può fare slurpy slurpy vuoi che butti giù o? no no c'è tant'uno l'ho distrutto Laura ora l'ho distrutto non so dove sia ho stata setta d'Aura one hit one hit sono gli ultimi due 431 431 forse li prendo li prendo li prendo no mi butto con te mi butto con te nel buco ma basta ma quante core hanno il mio qua matto matto e l'ultimo lo craccate ora mamma mia l'abbiamo destroyed è arrivata pure è arrivata pure la mia amica quindi devo pure andare a capire il portone arrivo giro dammi un attimo gi 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 no ecco